Il Pescara è partito per la trasferta contro il Brescia degli Abruzzesi e dell'Airone Caracciolo, bomber delle rondinelle, dal tecnico Ivo Iaconi che ha sostituito Cristiano Bergodi vincendo una sola partita e che sulla panchina del Pescara è stato quasi 4 anni, nessuno come lui, ex il DS Andrea Iaconi, oltre un decennio a Pescara e anche il general manager Pierfrancesco Vici. A Brescia ha allenato anche Cersei Cosmi che ha lasciato bei ricordi e qualche amico e ritiene le rondinelle uno dei cinque organici più attrezzati della Serie B. Ma domani è tempo di raccogliere punti per i biancazzurri che sono ancora fuori dai playoff. Una mano l'ha data la commissione disciplinare togliendo un punto sia al Siena che al Cesena. Persistono le assenze in difesa, Rossi, Schiavi e ancora Capuano infortunati. Zuparice tornerà nel reparto arretrato. A centrocampo Dubbio Mascara, pronto Nielsen. In porta ancora Belardi al posto di Pelizzoli, neanche convocato. Tra i Bresciani in una difesa sguarnita rientra l'esperto Paci dopo sei giornate di squalifica. Arbitra Claudio Gavillucci di Latina, più volte sulla strada dei biancazzurri. E Cersei Cosmi naviga a vista, poche certezze alla vigilia della partita. È una partita che non è indefinita, indefinibile oggi, voglio dire. Credo che nessuno di noi abbia la percezione chiara di quello che può succedere. Questo non lo so se sia un bene o un male, è chiaro che noi ci siamo preparati, voglio dire. Non è che siamo preparati cercando innanzitutto di valorizzare quelle che sono le nostre qualità. e conoscendo tutto quello che c'era di conoscere del Brescia. Credo che la stessa cosa sia stata fatta, come sempre, dall'altra parte. In questo momento non siamo fortunati, o meno avrei preferito scegliere, in base a quelle che sono le condizioni anche di forma, voglio dire, fisiche. Invece, soprattutto nel reparto difensivo e degli esterni, sembra a Canizzi un pizzico di sfortuna, insomma, voglio dire. Però, ecco, da un lato fa dispiacere, però poi se si dice che è una squadra, una rosa organizzata, per chi magari ha giocato meno, o ha la possibilità di rimettersi in discussione, queste assenze potrebbero essere, diciamo, il tocca sana.